Ci troviamo nell'aula del Consiglio regionale in Via della Pisano in attesa che inizi la quarta seduta del Consiglio sempre sullo stesso tema in compagnia di Selvana De Nicolò, attuale capogruppo e portavoce del gruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale. Dicevamo che è la quarta seduta che si discute sugli emendamenti relativi al disegno di leggi oppure alla proposta dell'Aggiunta circa l'accorpamento delle società regionali. Ne esce fuori da quanto si legge sui giornali che il gruppo 5 Stelle sembra contrario a questa unificazione dell'azienda e la diminuzione. Questo è quanto emerge? Beh, purtroppo chi ci conosce bene sa che noi non teniamo alle poltrone, per cui questa cosa la diciamo magari per le persone che non ci conoscono molto bene, che non ci hanno seguito. Noi naturalmente siamo qua per scardinare questo sistema e stiamo continuando a farlo. Nella fattispecie per questa proposta di legge che è la numero 90 del 2013. Mette paura quindi? Sì, diciamo di sì, diciamo di sì, abbastanza. Questo è il numero. Sta mettendo paura, senz'altro. Su questa proposta di legge noi siamo stati diciamo un po' delusi fin dall'inizio perché si voleva procedere a questo accorpamento di società, a questo riordino, ma in realtà non è un atto spontaneo di questa giunta, è un atto diciamo dovuto perché riguardava principalmente la BIL, Banca Impresa Lazio, che è una banca interna alla regione, che la Banca d'Italia ha giudicato molto negativamente e ha chiesto, per cui ha chiesto insomma di procedere ad una liquidazione o comunque a una dismissione. E questa diciamo che è l'urgenza principale per cui è stata poi stilata questa proposta di legge. Questa proposta di legge è arrivata diciamo in modalità silenziosa e con un aspetto molto molto incompleto, molto poco approfondito diciamo, dando tutta la delega del riordino alla giunta, quindi senza prevedere nessun passaggio in commissione, nessun passaggio in consiglio. Poi tramite il passaggio nelle varie commissioni si sono portate alcune modifiche e ora il testo è quello che potete insomma vedere anche dal sito. Quindi che si tratta di una forma di decreto legislativo, cioè un vero e proprio atto di delega del consiglio alla giunta per l'accorpamento? Beh questa la proposta di legge viene dalla giunta, non è una proposta di legge consigliare chiaramente, quindi la giunta dice in questa proposta di legge come pensa che debba avvenire questo riordino delle società. Sautorando un po' il consiglio dalle proprie attribuzioni? Totalmente, poi tramite i passaggi in commissione hanno visto che c'era una forte contrarietà da parte di alcuni dei commissari, quasi tutti praticamente, non solo di minoranza ma anche di maggioranza a questa cosa, a questa esautorazione del consiglio. Per cui si sono apportati alcuni cambiamenti, alcuni miglioramenti a questa proposta di legge che ora prevede dei piccoli passaggi, diciamo un po' così. Noi da parte nostra vorremmo che ci fosse ancora di più il controllo, la partecipazione e la trasparenza riguardo a queste cose, perché queste società al momento in cui sono state create, diciamo... Parliamo di Lazio Service, parliamo della Light, di Bic Lazio, parliamo di tutte queste società? No, 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 parliamo delle società principalmente che si occupano del credito, quindi c'è la Bill, Banca Impresa Lazio, e c'è Union Fidi, una società che è nata nel 97, proprio all'interno di una legge di bilancio tra l'altro. Poi parliamo di Sviluppo Lazio, che sarebbe la società madre che dovrebbe incamerare tutte le altre quattro. Poi parliamo di Asclepion e l'ultima è Bic. Quindi diciamo che stiamo parlando di società regionali, ma non sono tutte, sono solo queste cinque società regionali, di cui due si occupano del credito e sono anzi una duplicazione, perché una faceva quello che faceva l'altra. E le altre tre invece si occupano di sostegno alle attività produttive, all'impresa e allo sviluppo regionale. Per cui diciamo con attività molto assimilabili anche queste tre erano un po' in triplicazione, se vogliamo. Ecco, quindi questo riordino capita perfettamente a Fagiolo, cioè noi non siamo assolutamente... Voi nel merito siete d'accordo sulla proposta Zingaretti, chiamiamola così. Invece formalmente pensate che debba essere esclusivamente competenza del Consiglio, legiferare in merito e continuare questa battaglia per mantenere la competenza del Consiglio regionale? Assolutamente sì, cioè noi sappiamo che per le attività gestionali poi di questo macro gruppo che includerebbe tutte queste società non se ne potrà occupare il Consiglio. Il Consiglio si occuperà delle mansioni diciamo organizzative, di tipo organizzativo, però non deve essere escluso da questo processo. E poi c'è un altro fattore, c'è la Banca Impresa Lazio che noi preferiremmo che fosse liquidata con una liquidazione volontaria anziché assorbita da Sviluppo Lazio, poiché l'assorbimento causerebbe comunque un troppo onere per la Regione Lazio e poi le altre banche che fanno parte, diciamo, con le loro partecipazioni di Banca Impresa Lazio naturalmente dovrebbero essere liquidate e anche lì ci sarebbero delle spese. Per cui noi preferiamo la liquidazione che ci consente anche di tracciare un po' quella che è stata la mala gestione e la mala politica di questa società. E poi l'ultima cosa che chiediamo, però lì pare che ci sia un avvicinamento da parte di Zingaretti e della sua giunta, noi vogliamo regolare il rapporto tra dirigenti e personale impiegatizio e chiediamo che ci sia un rapporto di un dirigente. Questo in generale oppure soltanto su questo specifico? Ahimè in questa proposta di legge lo possiamo inserire solo per questa cosa, quindi uno a trenta sarebbe un dirigente ogni trenta impiegati, però speriamo che questa sia una buona pratica che faccia a scuola e possa essere poi adattata anche a tutte le altre società regionali.